La curva del contagio in Abruzzo è in netta discesa oggi rispetto a 24 ore fa. Sono infatti 60 i nuovi positivi su un totale di 2.514 tamponi molecolari esaminati per una percentuale di contagiosità pari al 2,4%, più bassa di quella di ieri. Stesso discorso anche sulla percentuale complessiva che comprende anche i 4.685 test antigenici che è pari allo 0,8%. Insomma, a dispetto delle notizie che arrivano, soprattutto dalle scuole, dove dopo i primi giorni si registrano dei contagi, la situazione a inizio weekend non è troppo negativa. Complici i contagi scolastici, resta Teramo la provincia con il maggior numero di nuovi casi. Nella fattispecie sono 25, poi l'Aquila con 14, il Pescarese con 12, mentre si ferma sotto quota 10 la provincia di Chieti che conta 9 nuovi casi. Anche oggi, ed è il terzo giorno consecutivo, non si registrano vittime, così il totale di coloro che hanno perso la vita a causa del Covid nella regione Abruzzo resta fermo a quota 2.535. Continuano invece ad aumentare il numero dei ricoveri nelle terapie non intensive delle strutture ospedaliere regionali. Oggi sono 4 o più di ieri, vale a dire 76 letti occupati nei reparti delle aree mediche, mentre fortunatamente scendono, anche se solo di una unità, i pazienti che si trovano ricoverati nelle terapie intensive. Salgono a quota 1979 con un incremento di 9 unità, coloro che si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASLA di competenza. Purtroppo anche oggi il numero dei guariti, che sono 48, è inferiore a quello dei nuovi contagiati. Questo fa sì che il numero degli attualmente positivi, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei guariti e dei deceduti, sia più alto rispetto a ieri di 12 unità, per un valore complessivo di 2.061. Grazie a tutti.